Al Comune di Naro la sindaca onorevole Maria Grazia Brandara ha firmato la convenzione con Roberto Renna, Regional Manager Sicilia dell'azienda Open Fiber, che ha sancito l'avvio dei lavori per la realizzazione della banda ultralarga in fibra ottica sul territorio narese e consentirà ai cittadini, agli imprese, agli uffici pubblici e alle scuole di soffrire di prestazioni digitali all'avanguardia, finanziati nell'ambito del piano banda ultralarga per le aree bianche del Paese con i fondi del PNRR. La nuova rete a Naro si svilupperà per circa 30 km e coprirà 119 unità immobiliari con una connessione fino a 10 GB al secondo e non graveranno sui fondi del Comune di Naro. Grazie al progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber, i nostri cittadini, le attività commerciali e produttivi locali potranno usufruire di una infrastruttura di telecomunicazione indispensabile per rimanere al passo con i tempi, beneficiando di una connessione stabile ed ultraveloce che rende il nostro territorio innovativo e attrattivo. Open Fiber oggi al Comune di Naro, effettueremo anche qui un intervento per la continua digitalizzazione del nostro Paese, avremo lavorazioni che effettueremo nel corso dei prossimi sei mesi, è un importante investimento anche qui nella città di Naro perché appunto forniremo la possibilità ai cittadini e alle imprese di andare verso incontro all'industria 4.0, al telelavoro e così anche alla telemedicina. Garantiamo ovviamente un servizio sia alla pubblica amministrazione che ai cittadini e cercheremo di effettuare nel minor tempo possibile questo intervento. Grazie mille.